Benvenuti in un nuovo video, oggi siamo qui per provare un po' di prodottini Per noi sono sempre delle novità perché sono sempre prodotti che non abbiamo mai provato E' un misto tra Jerry American, Sweet Ben e Piccolo No perché è questo Quindi io direi proprio di iniziare subito 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 Da quella più... This is Big Cup Puff Anche se non mi sembra di aver già provato No, le abbiamo provato patatina, quelle con le patatine e quelle con i pretzel Questo qui con i puff, ma i puff li abbiamo provati ma abbiamo provato i cereali Ci ricordi? Mamma mia che buoni Erano proprio buoni perché erano belli salati Quindi speriamo bene Allora, da quanto tempo? Eh, molto più doppio Così sì, sì, di dom Che ci è? Per noi non ho ne ho detto però che cos'è questo del gusto cambia troppo per lo metto il salone proprio questi pezzi oddio sono i puff si non è salato eh ma pure dentro il burro d'aradine si fa un po sfumato non sfumato però è brutto un dolce finto chimico l'odore ti dà quella sensazione però dopo che l'hai mangiato ti lasciavamo un brutto ridotto non è lo stesso sapore tartufone ciocco pistacchio motta cioccolato fondente ripieno al pistacchio a me queste cose non piacciono anche a me che avevamo ancora da fare perché ti ho detto vabbè pistacchio dovevamo manovare non mi sono mi piaciuti ma poi fa un dente perché non mi sono concentrata bene altrimenti non te lo facevo prendere questo ci vuole un coltello che peccato questo è proprio dark il mio dente già si è spezzato è morbido è morbido facciamo metà di questo è proprio verde 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 però pensavo però è pesante che mi è cioccolato non riesco a capire questa crema dentro io non la sento proprio però posso dire che per essere un cioccolato fondente mi aspettavo un fondente molto più intenso molto più invece no anche perché secondo me la crema dentro è così tanto dolce è così tanto dolce che non si sente il fondente non male non male non male ma non lo rimangerei ma neanche non male buono però immaginati tipo alla nocciola cioccolato al latte o un bianco con nocciola all'interno è buono ti sarebbe sapere nel mio bicchiere oh mamma scusami ma quello non era il tuo questo video guardate mentre registrale mi dicevamo mettere il sabato però il sabato mi dispiace farti truccare appositamente capito? non mi truccherò mai infatti quindi però la verità non è male questo mi c'era una tazza di caffè no è buono ok andiamo avanti vediamo un po' questo cioccolato mamma mia falcone c'era in tantissimi gusti falcone cuore di crostata crema al limone senza grassi idrogenati arricchite con volosa farcitura di crema di limone c'era pure pistacchio frutti di bosco cioccolato tantissimi gusti interessante 4 snack enorme oh ma crostata c'è pure ma l'ha fatta proprio bene wow spero sia buona no sembra un po' il no sembra un po' la kid del paradiso no mi ricorda allora cloudy ecco la qui è proprio una crostata spezziamo un po' è proprio gelosa non è una crema questa no 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 perché va te che si fatti una ricchione la forma sfumata croccante Cioè non è male, però Ma no, questo video Abbiamo inserito tutti i flop Tanne il tartufone Io non sento il limone Si, si sente un po' ma No Ma no, mamma mia Cioè, guardate la copertina Io pensavo una crema così Eh, io una crema Io quando l'ho spezzata Gel Ultimo snack dolce per questo video Oh Questo è l'altra Questo ho trovato a 99 centesimi Tutto già svelato Allora, Mirka Choco Grain Lo dice che cos'è? Biscotti con avena e farina integrale Ricoperti di cioccolato al latte Molto semplici Secondo me sono buoni Stavo dicendo sono scaduti Invece no 12 di dicembre Ecco, sentire Sono scaduti Questi sono buoni Domani mattina Come? Sì, come? Sì, come? Ah, e si presentano Toccoli di pronto Sono molto bellini Come si sente l'avena? Guarda qua Come si chiamano quei biscotti? Io questi non li ho mai visti No, come si chiamano? Questi biscotti non li ho mai visti Wow Mmm Mi senti questo sale? Pazzeschi Buoni Ma poi sono belli salati Sono croccanti Appunto, giusto Si sente anche un po' Di cioccolato Ma proprio l'avena Prevale un sacco Mmm Buoni Mi pensi che i biscotti Mi piacciono a me Buoni Ricorda un po'? Sì, sono proprio buoni Wow Mi ricorda un po' Non voglio dire Il sapore delle campagnole Ma È un po' Quella lì Buoni Meno male che abbiamo concluso Con una gioia Direi che questo è l'unico promosso Proprio Al pieni voti Da ricomprare Proprio Mi sembra che il prezzo pieno Costava quasi 2 euro E vabbè Adoro E quindi nulla Noi speriamo Che questo video Vi sia piaciuto E ci vediamo nel prossimo video Ciao